Il prossimo 11 settembre, in occasione dell'avvio dell'anno scolastico 2019-2020, tornerà operativo il plesso della scuola Luigi Scudiero in via Verga ad Agropoli. Sono terminati infatti già da diverse settimane i lavori di manutenzione straordinaria all'edificio che ospita l'istituto comprensivo Agropoli San Marco e sono in corso già da alcuni giorni le operazioni di trasloco di sedie, banchi, lavagne e tutto quanto era stato trasferito nel settembre 2018 nell'ala nuova della scuola Landolfi. In questa ultima infatti sono stati ospitati per l'intero anno scolastico 2018-2019 gli alunni della scuola prossima a lungomare, al fine di permettere alla ditta individuata dal comune di Agropoli di operare gli interventi. Questi sono costituiti nel ripristino corticale, la protezione delle strutture in cemento armato, degradato dall'azione del tempo e degli agenti atmosferici. Da verifiche effettuate presso l'istituto scolastico era emerso un notevole stato di degrado del calcestruzzo e delle armature metalliche che ha reso necessario un intervento di manutenzione straordinaria mediante opere di risanamento puntuali e dettagliate, specificatamente sulle pilastrature esterne e sui nodi di incrocio, travi e pilastri. Il plesso è stato inoltre completamente ritinteggiato sia esternamente che internamente. Le operazioni hanno richiesto alcuni mesi di lavoro. A rientro a scuola gli alunni e il personale troveranno una scuola rinnovata e pienamente funzionale. Come promesso, affermano all'unisono il sindaco Adamo Coppola e l'assessore alla vivibilità dei edifici e strutture comunali Gerardo Santosuosso, sono stati conclusi i lavori presso la scuola Scudiero. Un intervento che è consistito in una ristrutturazione nel risanamento esterno del fabbricato. I bambini temporaneamente ospitati lo scorso anno presso la nuova ala dell'edificio Landolfi, all'apertura del nuovo anno scolastico, potranno tornare nella propria scuola.